E' stata ripristinata la maggior parte delle funzioni del CUP regionale che tornerà alla piena operatività dalla mattinata di domani 23 maggio. Il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie è andato in tilt da sabato sera a causa di quello che dopo accertamenti si è rivelato un attacco hacker. Attacco che secondo la direzione del Servizio Sanitario regionale non avrebbe violato i dati archiviati limitandosi a mettere fuori uso i canali delle prenotazioni. E' dire che appena un mese fa la regione aveva stanziato 13 milioni di euro per potenziare il sistema. Una vulnerabilità di sistema sulla quale è intervenuto oggi anche un esperto del settore come Flavio Baldi, direttore commerciale FibraWeb SPA, nell'ambito di un convegno tenuto sia a Fano sulla mappatura delle aree coperte da fibra ottica nella terza città delle Marche. L'unica cosa che è qui ci tengo a sottolinearlo sicuramente è di slocare quelle che sono le informazioni in più, quelli datacenter, infatti è un po' il progetto che sta facendo la regione Marche, siamo in contatto anche noi, e era un progetto che era scambio di postazioni tra l'Umbra e le Marche per cui datacenter che si parlano tra di loro eccetera. Però per fare questo ci vuole un po' di tempo e a tutti gli effetti c'è necessità di infrastrutture come la fibra, questo è chiaro, per cui diciamo uno degli strumenti più importanti per difendersi è dislocare le informazioni, tenerle non riscrivibili per cui backup e costruire sistemi di disaster recovery che permettono immediatamente di attivare un centro servizi fuori dal punto in cui c'è stato l'attacco. Dislocare le informazioni ma anche investire sull'analisi della vulnerabilità Chiaramente un attacco a un servizio pubblico fa più rumore di un qualsiasi altro attacco per cui diciamo io dico che potrebbe rientrare nella normalità, chiaramente invito tutti a ragionare su quelli che possono essere gli elementi esposti per cui noi con l'Università di Ancona abbiamo portato loro stessi che sono esperti in alcune aziende proprio per fare analisi di vulnerabilità, questa è una delle cose che suggerisco più velocemente possibile, analizzare le vulnerabilità.